A nuove richieste ecco le nuove proposte della sanità trevigiana alla luce di quelli che sono gli indirizzi dettati dalla Regione. E per testimoniare l'eccellenza del lavoro svolto nell'Ulss 9, presente al convegno dedicato nel pomeriggio proprio a questa tematica, all'ospedale Caffoncello, il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha subito portato un esempio pratico di queste innovazioni. Ci siamo partiti con un progetto sperimentale in questa Ulss, che è un progetto che vede ovviamente il tema di pronto soccorso, quindi dare tutta una serie di comfort e informazioni all'interno del pronto soccorso a chi è lì ad attendere, quindi il paziente in difficoltà. Mettendo anche degli steward o delle hostess, come sono state definite, ovvero delle persone formate, che restano tra i pazienti per dare costantemente informazione sullo stato di avanzamento della richiesta di visita e anche sullo stato di avanzamento dei problemi che ci sono in pronto soccorso. La valutazione della sanità trevigiana, così come di quella veneta, è più che soddisfacente? Beh, è un'ottima situazione, visto che siamo una sanità virtuosa, in un Veneto virtuoso provane sia che siamo regione di riferimento a livello nazionale per i costi della sanità. E come dico sempre, un pasto in ospedale costa 6,5 euro qui da noi in Veneto, a Treviso, e viene a costare 60-80 euro in giro per l'Italia. Ma per continuare a migliorare, dice Zaia, ci sono altri passi da compiere, dunque altri investimenti da fare e la regione farà la sua parte. Questa ULS è un ULS virtuosa e c'è una necessità di continuare con i temi della clinicizzazione, cioè di avere cliniche universitarie all'interno dell'ospedale e come già accade, accade per chirurgia, accade per medicina, per altre realtà tipo la pediatria. E dall'altro anche la necessità concreta di pensare che la dotazione di personale e la dotazione di macchinari deve continuare ad essere un oggetto di investimento, quindi è una sanità che cresce.